il discorso del colonnello dov'è? aspetta è sparito c'era l'indicatore aspetta un attimo non vorrei se fosse bugato ma prima c'era sono sicuro un attimo vediamo se qua ah ecco ah forse ero troppo vicino comunque mettiamo come destinazione ma ah ecco così almeno capiamo dov'è magari ero troppo vicino ah qui ok sentiamo un po' che ha da dire stavolta e sorelle d'armi sono qui davanti a voi per festeggiare la fine è vicina il capitano curi ha lavorato senza sosta per organizzare e addestrare le nostre forze il tenente whitaker è impegnata da tempo nello studio di un'arma biologica che ci permetterà di annientare centinaia di furiosi alla volta il tenente weaver è al lavoro su un'arma chimica che ci consentirà di sterminare intere orde presto non dovremo più fare terra bruciata al nostro passaggio potremo finalmente abbandonare l'approccio difensivo e passare all'offensiva per annientare i furiosi e riconquistare così il nostro pianeta osservate e gli disse il nemico che l'ha seminata è il diavolo la mietitura rappresenta la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti i responsabili di iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove ci sarà grande pianto e stridore di denti si agita la milizia della contea di the shoot siamo quegli angeli della vendetta e la mietitura sta per iniziare compagnia potete andare secondo me si è bevuto un po il cervello dopo questo discorso forse ci crede un po troppo anche perché non credo che secondo me sarà sta facendo un'arma biologica non penso proprio abbiamo un punto abilità si va bene ok allora continuiamo qua che abbiamo sbloccato il livello 5 allora incrementa la capacità di munizione di tutte le armi a distanza incrementa la capacità di perforare la capacità perforante dei proietti delle armi a distanza le uccisioni con colpi alla testa ripristino l'energia e queste due sono interessanti perché vabbè colpi alla testa però le volte che prendo la testa non sono tantissime però capita io aumenterei beh capacità di munizione non abbiamo un grosso problema magari la perforazione dei proiettili questo sì ok consente ai proiettili di trapassare i nemici colpire i bersagli alle loro spalle questo è buono ok perfetto allora proseguiamo con i nostri compiti oh taylor si è ripreso un po' insomma taylor che succede dica roba da non credere il capitano curi mi ha assegnato ai turni di guardia come se potesse capitare qualcosa agitarlo troppo si è un lavoro duro ma scommetto che è tutto sotto controllo giusto si si e che ti succede amico mio la moto ti devasta schiene e chiappe e ti fai dare un'occhiata dal dottore io cosa non ti sento dai ti prendo in giro il dolore è sparito doc mi ha sparato una botta di ossicodone è roba forte sto bene sto bene ok ehi prima ho visto il tenente stava cercando qualcosa dal dottore ah si pensavo ti interessasse certo grazie ci vediamo taylor sicuro vabbè star a spian non è grave ma cerca di evitare le risse non garantisco sai mi pare se è passato un pezzo dal mio ultimo viaggio nell'incubo mi ramollisco e sto gli ablandando scherzi ah vuoi davvero venire in missione con me guarda che una volta ero anch'io un motociclista sai bene allora andiamo caporale doc dove andate colonnello non vado in missione da molto quindi volevo no 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 non se ne parla proprio come colonnello non chiedo cosa farei senza di te se dovesse accaderti qualcosa non avremmo altri medici ma questo posso proteggerlo io è congedato caporale e non ha tutti i torti in effetti sei l'unico sei l'unico medici sei l'unico medici ma ripeto se qualcosa andasse storto io non saprei davvero che fare se se dovessi perderti oddio ah quindi è gay eh pensavo non saprei cosa fare per i malati più che altro però vabbè vabbè c'è anche quella cosa lì vabbè ok cioè ha senso per i malati però vabbè comunque andiamo da Sara a quanto pare eh beh beh le mie ricerche si fermano qui posso aiutarti non lo so hai un sintetizzatore di DNA non credo no ma c'è un negozio di autoricambi a Fort Clamart Dick non stiamo parlando di macchine ma perché ci casco sempre in realtà forse so dove trovarlo e dove nel tuo laboratorio alla Cloverdale ok perfetto dobbiamo solo trovare un modo per superare le montagne hai ragione non è una cosa facile ma tu conosci un passaggio giusto devi portarmi con te è un ordine tenente sì no insomma non è un ordine non lo so vuoi portarmi con te o no ma il bagaglio è leggero ehi Dick senti se stai per dire grazie un'altra volta dimmi quando sei pronta quindi ritorniamo a nord a questo punto e dobbiamo rifare la strada al contrario dove siamo venuti che in partenza tenente colonnello capitano sì dobbiamo recuperare un macchinario di cui ho bisogno capisco come vanno le ricerche bene con Dick cioè con il caporale St. John abbiamo fatto notevoli progressi grazie di averlo assegnato al mio progetto fa progressi anche il tenente Weaver potrà testare la sua arma chimica alla fine della settimana ho saputo anch'io sono a buon punto ricorda che per noi sei più preziosa dei macchinari quelli si possono rimpiazzare ma tu no sono già stata nell'incubo Matt so cavarmela in caso di problemi a presto tenente caporale vorrei esaminare le attrezzature di Weaver ed essere aggiornato devo verificare lo stato dei lavori alla fine alla fine diciamo sceglieranno Weaver sicuramente figuriamo sono dei militari che preferiscono le armi perché tutta questa fantomima? cosa? tutti sì signore e no signore saluto militare le gerarchie e le uniformi mi sembra inutile ora eri nell'esercito dovresti saperlo era diverso perché? perché c'erano miliardi di persone insomma un corpo militare aveva ragione di esistere io credo che abbia più senso ora perché? perché lì fuori regna il caos abbiamo bisogno di ordine e disciplina ora più che mai sai ho visitato molti campi e tirano avanti anche senza un colonnello che ti ansima sul collo certo che ironico tu che trovi inutili le uniformi e le gerarchie che significa? pensavo lo stesso dei motociclisti al tempo anche voi avevate dei gradi come capitano di strada o presidente e le toppe e i tatuaggi erano come un uniforme e quando scendevate in strada tutti insieme sembravate un esercito barbe e moto a parte ovvio beh in effetti non hai tutti i torti devo confessare di essere rimasta sorpresa quando ti ho visto senza il gilet al campo credevo che non ci avresti rinunciato per nulla al mondo dai il mio gilet chissà se il colonnello accetterà un cambio di uniforme si infatti dove andiamo? a diamond lake c'è una vecchia strada del corpo forestale che aggira il monte Tilson a occidente ok erano qui quando sei venuto dal passo prima i soldati in quel frangente avevano un problema di plantigradi di plantigradi? non vorrei andare troppo avanti che poi mi tagliano i dialoghi ok 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 ehi! ehi! spegni il motore! devi tornare indietro bello abbiamo l'ordine di controllare che di controllare che cosa caporale mi scusi non l'ho riconosciuta è un ordine del colonnello serve a evitare il rischio di disertori in fuga mi stai accusando di diserzione? no signora allora lasciami passare caporale cosa ci fai ancora lì? spostati immediatamente ho detto si signora scusi signora ma dovrò fare il rapporto? si mi sembra ovvio vabbè non stiamo brava a fare sul serio che intendi? ha detto che ti avrebbe denunciato secondo te come la prenderà Matt? il colonnello gli dirà di farsi i cazzi suoi e di non dubitare mai di un ufficiale forse non stavolta ho questo presentimento già che ci ha chiamato col nostro nome Dick magari può intuire qualcosa che c'è? niente solo che la vista da quassù è incredibile eh sì ormai non ci faccio più caso insomma dopo tutto questo tempo com'è possibile? è da mozzare il fiato già il mondo si desta grato per un'altra alba se passassi i tuoi giorni a guardare in un microscopio magari l'apprezzeresti di più ma lo apprezzo non credere ammirare il sole che sorge è infinitamente meglio dell'alternativa devo essere onesta in certi momenti ho pensato il contrario e sarebbe stato meglio non vedere un altro giorno conosco la sensazione e cosa ti ha dato la forza di andare avanti? non lo so forse se non mi sono arreso questo è solo per la mia testardaggine non ti credo anch'io volevo farla finita Sara credimi ma poi Buser ha avuto l'incidente al braccio e io non potevo lasciarlo morire no? e vederlo lottare con i denti per la propria vita quando non aveva nessun motivo di farlo non un cazzo di motivo beh forse l'ho fatto per lui o per te magari cioè per Sara ho scoperto che tu eri ancora viva è stato allora che puoi immaginarlo che avrei voluto farla finita sul serio si certo no seriamente ma poi ho ricordato che avevi ancora l'anello dei mongrel e questo mi ha dato la forza di andare avanti così ho deciso di cercarti per riaverlo indietro e sai com'è andata a finire merda esatto verranno giorni migliori lo sai no? certo sì possiamo farcela Deacon, io ci credo stai cercando di convincere me o te? vabbè nel mentre mi sa che abbiamo superato dovremmo esserci giusto? si siamo quasi al tunnel di Tilson comunque Luzer voleva farla finita a un certo punto e siamo stati noi a bloccarlo quindi non lo so non sarebbe stato meglio dire che facciamo tutto questo per Sara forse mi serve una mano per togliere quell'affare accidenti ma che diamine è? quello è un sigillo è un segnale di avvertimento dei ripugnanti chi sono i ripugnanti? erano i membri della requiescat in pace una setta si martoriavano, adoravano i furiosi, volevano unirsi a loro e... come vedi la tolleranza non era esattamente loro forte cosa facciamo se li incontriamo? ah non ci sono più non li incontreremo ce ne siamo occupati? allora mi aiuti o no? eh ok ma era bloccato prima no? poi non siamo passati con Iron Man, non credo ok su salta su calma eh beh magari qualche ripugnante è rimasto qualche... qualche d'uno ma pochi ok reggiti forte non c'è molto spazio cazzo non mi sorprende che abbiano abbandonato le auto questo è niente sulla vecchia strada per Belknap c'è un tunnel che io e Buser abbiamo attraversato centinaia di volte al presidio della Nero c'era una fila lunga chilometri quando tutto è andato a puttane è terribile! ho visto di peggio ma... si ah ci sono ancora i megafoni non li ho eliminati ehi sembra familiare si si è proprio qui eh si 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 wow non pensavo di rivedere questo posto e gli irrigatori vanno ancora no eh cioè ok bene la corrente è ancora attiva si questo non mi stupisce sul tetto c'è una rete di pannelli solari si vociferava di un generatore energia nucleare ma non l'ho mai visto addirittura ok ma come pensi di entrare? ti faccio vedere hai detto che la corrente è ancora attiva Sara Irene Whittaker ID 2007659 buon poveriggio Sara Irene Whittaker se lo ricordo ancora il numero tornata al centro ricerche Cloverdale di Iron Butte sono passati 751 giorni dal suo ultimo accesso attenda prego se non mi ricordavo di tutta questa tecnologia niente di che Irene non ha intelligenza è poco più di un'applicazione per smartphone Irene? architettura di interfaccia per la rete interna oh mio dio cosa c'è? niente sono piante di mais guarda sono piante di mais Sara dovrebbe essere ma è un sistema di irrigazione è totalmente automatizzato fin quando riceve corrente si mantiene in funzione questo posto è un paradiso ha cibo, acqua, elettricità e una recinzione come Dio comanda è strano che non ci sia nessuno accampato qui in giro l'hai detto tu la corrente è attiva e 8000 volt bastano scoraggiare qualsiasi intruso ma si poteva sempre scavare sotto magari non so quanto vada giù in profondità e al recinto eh dai uno con tutto il tempo che ha piano piano scava scava oh almeno io ci avrei provato vedendo tutto quel cibo magari ecco beh sono i grammi quelli dei nidi forse no? anche se qua non c'erano nidi diciamo con gli uccelli quindi non saprei sono bella guerriti eh oh merda maledetto Corvi maledetto sono infetti deve essere questo che li rende aggressivi e l'aggressività è pericolosa Io dico di uscire, ma senza fare rumore. Ok. Andiamo. Va bene. Che diavolo è successo, che... Non lo so. Forse sì, però sono un po' irriconoscibili adesso. Quindi qualcuno ha sparato a tutti, mentre provavano a scappare? Sembrerebbe proprio di sì. Poi hanno isolato la struttura e se ne sono andati? Per quale motivo? Non lo so, Dicon. Non lo so, non ero presente. Altra impronta necessaria. Sara Ayrin Whittaker, ID2007659. Merda. Questo non funziona. Vieni, qui ce n'è un altro. Eh, non possiamo romperlo. Ok, perché... Come l'hai chiamata? Ayrin? Perché Ayrin è in funzione all'entrata principale e non alla porta d'ingresso? Beh, mi sorprende funzioni ancora. Gli informatici si lamentavano sempre dell'instabilità del sistema. E questo quando la manutenzione era settimanale. Ora sono passati... Quanto? Due anni? Stabilità del sistema. Oppure sembra funzioni ancora tutto, tranne la porta, a tuo pare. Oh. Guardi quando hai detto che nessuno può entrare qui. Sì? Perché? La telecamera si è mossa. Eh. Ma che stronzi. Sì, hai ragione. Hanno bloccato il sistema. Ehi! Fateci entrare! Non vogliamo creare problemi. Siamo qui di passaggio. Dobbiamo entrare! Ma io non mi fiderei così, eh. Però... Come è? Con usci altri ingressi? Sì. Sì, ho un'idea. Andiamo. Non sappiamo con che abbiamo a che fare. C'è... C'è un'uscita di sicurezza sul retro dell'edificio. E perché non hanno chiuso anche quella? Non è detto che qualcuno abbia isolato la struttura. Forse è un mal funzionamento. E le uscite d'emergenza non si possono bloccare. Protocolli di sicurezza della Cloverdale. Vediamo. Vabbè, lì c'è la scala da tirare giù. Ah, c'è un bel lucchetto. Ok, ci siamo. Dobbiamo solo capire come arrivare lassù. Aspetta, forse ho un'idea. Potrei sparare al chiavistello. Eh. Ottima mira. L'avevi già fatto? Sì, un paio di volte. Vediamo un po'. Non mi convince perché non mi lasci andare per primo. Non so che cosa sia successo nel parcheggio, ma ti garantisco che nessuno può superare il recinto senza autorizzazione. Io li conosco. E se c'è anche Jim, ci farà entrare. Jim? Jim, la guardia giurata. Jim che mi ha quasi sparato perché l'ho passato a prenderti. Vicon, è passata una vita e sono cambiate tante cose. Sì, non in meglio. Ma magari... Magari si so. Si so. Magari si sono chiusi dentro da due anni. Cioè... In effetti ha ragione. Non pensavo... Aspetta. Sì, vabbè, digli tutto, eh. Ma non vedo... Non ne vedo altri. Ok. Ok. Volete ascoltarmi? Lavoravo alla Cloverdale e conosco il sistema. Madonna. Ok. Ok. Libre. Arrivo. Ok. Permesso. Aspetta. Ah, è porca. Ah, guarda, là c'è un altro parlante. Credo. Sì. Ok. Un po' di silenzio. No, qua... Ah, qua c'è uno un po' più... Un po' più corazzato, ma... Contro la metaglietta. Aspetta un attimo, risparmiamo qualche colpo. Ok. Attenzione, attenzione. Allarme di livello 4. Ok, la sento qua sopra. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Sto muovendo. No. Ah, proprio mancato. Coprimi! Non ci arrivo! Libera! Attenzione, contro misure letali autorizzate... Ah, eccolo! Attenzione, contro misure letali autorizzate... Saliamo le scale e ingressiamo il giusto speso. D'accordo, andiamo. Un attimo. Ti stancherai. Farò così. Non è vero. Non è vero. Ok. E beccati questo. Ok. Allora, un attimo, eh. Usiamo... ...la benda. Ok. Ce n'è una. rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Usami. Scusami. Non siamo incastrati. Ah, eccola qua. Basta. Eh? Potrebbe servirmi. Ok. Aspetta che... Vado a raccogliere un po'. Ah, ce n'è uno anche qui. Basta, eh. Oh, forse c'è... L'abbiamo fatta tacere, almeno in questa zona. Secondo me questi erano... Erano qua da due anni, secondo me. Se erano chiusi dall'interno, per forza. Magari delle scorte c'erano. Attenzione. Allarme di livello 4. Ok. È chiusa, aspetta. Sarah Irene Whittaker, ID2007659. Sarah Irene Whittaker, sicurezza compromessa. Il centro ricerche Cloverdale è in isolamento. Ripeto. Disabilita, ID2007659. Disabilita. Il protocollo di sicurezza Alpha 761 è stato disabilitato. Oddio, sta un po' zitta, cazzo. La sicurezza interna è ancora in funzione. Sei pronto? Sì, ma stavolta vado io per primo. Ehi, stavolta... Attenzione. Entriamo insieme. I soccorsi sono stati all'eserano. Sì, basta che apri. Siamo feriti! Ok. Ok, è andato. Merda. Cecchini, sui te... Vistio. Attenzione. Aspetta. Allarme di livello 4, rilevati a risarmi. Oh, silenzio. Aspetta. Mi vicino un po'. Ok. Attenzione. Contro misure letali autorizzate. Ce ne ha. Visti. Contro misure letali autorizzate. Un attimo, dove? Ah, là. L'ho preso, ma... E' ancora, ma non muore. Ok. Aspetta. Era già morto. Dai, apri, va. Un'ultima volta. Sara Irene Whittaker, ID2007659. Disabilita la sicurezza e la cazzo di risposta vocale. Ok. Stai brutta. Sì. Saludete! Saludete! Chiudete questa capo di voi! Morca vacca. Jim, aspetta! Ma che bastardo! Era lui? L'hai detto tu! Niente, come prima. Dov'è? Controliamo se l'aria è sicura. Sì, faccio io. No. Attenzione, attenzione. Niente qui. Polizia in arrivo. Sì, come no. Potrebbe tornare utile. Polizia in arrivo. Ah, c'è un collezionabile. Ok. È tranquillo. Anche qui. Aspetta. Andò. No, vende, vabbè, ce li abbiamo. Cioè, abbiamo abbastanza vita, però... Ma niente, facciamo. Ok. Ok, aria è sicura. Ok, rosene. Contro misure letali autorizzate. Qua. Munizioni. Non a posto. Vabbè, apriamo, dai. Forza, proviamo la porta. Sara Irene Whittaker, ID 2007659. Disabilita la sicurezza e la cazzo di risposta vocale. Accesso non autorizzato. Sara Irene Whittaker, le tue credenziali sono state revocate. Pensate. Ehi, ehi. E entrare così sarebbe comunque un suicidio. Ogni arma al di là della porta sarebbe puntata verso di noi. Serve un piano migliore. Asceni, hai uno? Oh, beh, forse. C'è un modo per raggiungere quel tetto da qui? Da questa parte. Di qua. Di qua, immagino. Qui c'è una sporgenza. Dovresti raggiungere il tetto dal condizionatore. No, tu ti arrampicherai. Senti, sali su quel tetto e mi dai fuoco di copertura. Attira la loro attenzione. Quando saranno distratti, entrerò da qui. Li coglierò di sorpresa. Ok, sì, è un piano eccellente. Ma come dire, scordi un piccolo dettaglio. Cioè? La porta è chiusa, ricordi? Oh, merda. Allora, ok, ho un'idea. Cosa? Cosa fa? Facciamo il contrario. Attenzione, contro misure letali autorizzate con... Cosa sta facendo? Metti la mano sul lettore. Ah, ci met... Ci autorizza? Sì, sono dentro. L'accesso alla sicurezza è bloccato, ma i codici d'amministratore funzionano. Da qui posso darti un codice temporaneo. Pronto? Ah, sì? Il tuo nome completo è ID 5429009. Ricordalo. Ah, 5429009. Giusto? Sì, andiamo. Vabbè, non potevamo fare il contrario. Vabbè, però avere il suo è stato negato. Di... Di di... Ok, aspetta. Ok, dov'è qua? Pronto? Sì. Già pronto? Sì. Una volta che ho la loro attenzione, entra. Sì. Ehi, non correre rischi. Sono qui, eh. Attenzione, attenzione. Ok, andiamo. Non so, ero già andato. Arredetevi e non vi sarà fatto alcun male. Aspetta. Aspettiamo. Mi ha preso! So che sei l'indetto! Rispondimi, maledizione! Deacon, Lisa e John. IT 5429009. Buongiorno. Dei ai tuoi uomini di ritirarsi! Benvenuto al centro di ricerca su Overdale di Iron Man. Jim, non deve per farlo finire così. Per favore. Merda! Disabilita risposta vocale. Cazzo, Jim, ascoltami! L'hai voluta tu! Yes! Ma do. Dai. Aspetta. È perché ho... Attenzione, attenzione. È perché spara due colpi a raffica, volendo, e poi deve fare il gesto di ricarica. Aspetta. Ah, mi ha equipaggiato questa? Va bene anche questa. Eh, questa è letale. Scusa. Ok. Oh, eccola. Attenzione, contro misure letali autorizzate contro tutti gli intrusi. Attenzione, contro misure letali autorizzate. Ci sono gli altoparanti anche qua. Aspetta, già che ci sono. Eh... Madonna, mi equipaggio a questa. Attenzione, attenzione, attenzione. Ok. I soccorsi sono stati allertati. Polizia in arrivo. Lo sto guardando. Arrendetemi, non vi sarà fatto alcun male. No. È chiusa. Ehi, c'è nessuno qui. Voglio solo parlare. Eh... Attenzione, allarme di livello 4. Ma no! Rilevati colpi d'arma da fuoco. Personale di sicurezza al reparto manutenzione. Oh, cavolo, sto difetto. Eh, beh, avvicino un attimo. Oddio. Pensa a te. Sì. Eh, allora, dov'è? Dov'è? Qua dentro? Oh, ah, forse in alto. Sì. Stendilo! No. Ecco. No, ne manca uno. Jim. Ho visto Jim precipitarsi verso l'ufficio di sopra. Aspetta, aspetta. Aspetta qui. Vado a prenderlo. Eh, lo ammazziamo così, non penso. Aspetta un attimo. Che raccolgo. Ok, ah, qui forse, vabbè, in alto. Ah, forse in alto, eh. Aspetta. Eh, vabbè. Non volevo attivare, ma vabbè. Le mani! Non sparare! Mani in alto! No, non sparare! In piedi! Non ucciderlo! Ci serve vivo! Cristo ha detto mani in alto! Ok, ok, ma... Ditemi cosa volete. Va bene. D'accordo. È pulito! Ci stavamo solo difendendo. Non scendi. Tutti i morti all'esterno, Jim. Quelli a cui hai sparato in testa. Non so di che cosa fare. Perché? In fondo, che cosa cercavano di fare? Tornare a casa dalle famiglie, magari per portarli qui. Ma sarebbe stato un problema. Noi... non... potevamo accorrere rischi. In piedi. Aspetta, aspetta, aspetta! Non posso. Non costringermi. Jim, adesso conto fino a tre. No, 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 no. Uno! Tu non capisci. Due! Per favore, no! Tre! Spiegati almeno. Apri quella porta, cazzo! Va bene, va bene! Spiegati. Perché non la vuoi aprire? Beh. Spero che sappiate ciò che fate. Grazie, Jim. Sì, lo sappiamo perfettamente. Non è necessario. Lasciatemi. Mi dispiace. Ma non possiamo correre rischi. Ah! Porca. Forza! Me ne voglio andare da qui. Hm. Vabbè, non finiamo, cioè, non siamo stupiti, voglio dire. Noi facciamo le stesse cose alla fine, voglio dire. Eh. Non con tutti, però. È tutto vero. Non ci volevo credere. Eh, di cosa? Di cosa? Di cosa parli? Eh. Dio, è tutta colpa mia. Io non capisco colpa. Credo dove perlo sin dall'inizio. Prima ci occupavamo di coltivare zenzero selvatico e radice d'uva. Ma poi tutto è cambiato. Ricerche secretate, autorizzazioni revocate. David l'aveva intuito. Sapeva che qualcosa non andava. Ok, ok, calma. Chi è David? David Gorman. Era un collaboratore estagista. Io gli ho risposto che lavoravamo per l'industria farmaceutica in contesti di alta tecnologia e che doveva lasciar perdere perché c'erano in ballo miliardi. Non mi ha ascoltato. Ha violato il sistema, poi ha superato le protezioni e ha scoperto una qualche specie di progetto segreto o qualcosa del genere. Ok, un progetto segreto, ma rallente di me. Voleva diventare il nuovo Edward Snowden. Si era messo in testa di rendere pubblica l'intera vicenda. David Gorman smaschera l'impero del male e salva il mondo. Hai presente? Ma io non gli ho dato retta, Deacon. Gli ho detto che le sue erano tutte paranoie. Ma poi lui deve essere entrato qui e deve aver rubato un campione di qualsiasi cosa stessero realizzando. Aspetta, non capisco cosa intendi. Non è stato facile neanche per me ricollegare tutto. La notte in cui mi hanno ferita, sono passata dalla Cloverdale di Fairwell per cercare... per cercare David, ma lui se n'era già andato. Era partito da due settimane. C'è questa importante fiera ecologista a Portland. Forse voleva parlare con dei giornalisti. Probabilmente era già infetto, ma non lo sapeva ancora. Santo Dio. Due giorni dopo, in due giorni, il contagio si è steso a tutti i presenti che alla fine hanno preso un aereo e sono tornati a casa ignari. La settimana dopo, due miliardi e mezzo di infetti erano morti. Eh, colpa sua della... tutta l'infezione. E quindi adesso è per quello è così dedita a trovare, insomma, a fare quello che sta facendo per trovare una cura. Però... di certo i mezzi non sono molto... tecnologici. Le ginzioni elettriche con me le disattivo. I relai sono in una struttura vicino alle serre. Perché? Ok. Il fatto è che qui ci sono provviste a volontà e pensavo di contattare Gooser. Lui e Ricky devono sapere di questo posto. Anche il campo di Lost Lake. Lo puoi caricare da sola? Sì, certo. Ok. Nel caso chiama. Ok. Eh, però ci ha detto di non tornare a Iron Mike, eh. Quindi, insomma. Disattiva la recensione elettrificata della Cloverdale. Vabbè che comunque il cancello è aperto. Quindi, voglio dire, possono entrare da lì. Anzi. E se ci trasferissimo qua? Cioè, nel senso... se loro si trasferissero qua. Ci sono dei nidi, per caso. Forse sì. Aia. Fa vedere la mappa. No. I nidi non li segna. Però... Qua ce n'è uno. Io lo brucerei. Aspetta. Dardo. Incendiario. Opla. Finite. Se è così. Bruciate bastardi. Ma ce n'è uno. Ah, è l'altro qua. Aspetta che... No, dov'è qua? Creo. Eh, no, 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 no. C'è un cedro qua dentro. Ah, se no, aspetta. Se no, uso la moto. Eh, appunto. Esatto. Aspetta, però. Eh, eh. Mizgar mi ha quasi ucciso. Opla. Questi belli aggressivi, lui, eh. Ok. Posto? Andate via? Grazie. C'è un po' di benzina. Ah, qua, no, ok. Hanno messo un paio di... giustamente. Vabbè, ho usato la moto. Pazienza. Andiamo. Non mi resta che forzare la forza. L'apposta. Immagino che i furiosi alla fine siano un'arma biologica. Presumo. È andata male, ovviamente, eh. È andato tutto in malora, ovviamente. Per colpa di David. Quanto pare. Ok. Ok. Ok, è a posto. Ok. Mi sponderà. Diccorn, rispondi. Risponderà. Boss Lake, mi ricevete? Dick. Dick, sei tu? Sì, Bowser, sono io. È un piacere sentirti, fratello. È un piacere anche per me, ma... Non ho molto tempo. Il centro di ricerca in cui lavorava Sara, quello vicino ad Iron Butte, nella zona dei ripugnanti, presente, quello intendo... Ascolta, è pieno di cibo. Ci sono quintali di mais. Chiedi a Ricky e a Iron Mike di mandare qualcuno. Quindi, l'hai trovata? Cioè, hai trovato Sara? Sì, l'ho trovata. L'ho trovata, Bowser. Questa... È una grande notizia, Dick. Quando pensi di portarla a Lost Lake? Eh, non... No. Prima devo fare un'altra cosa. Non può tornare indietro. Così è detto Iron Mike. Vabbè che... Sì. Possiamo anche non ascoltarlo. Dile. Dile. Di stare attenta. Ti prego. Bowser. B-Boozer. Lost Lake, rispondete! La cazzo. Qui Lost Lake, passo. Rick? Ok, bene, ascolta. Dick? Sì, sì, sono io. Senti, c'è un... Non speravo di risentirti. Iron Mike ti dava per morto. Senti, non ho molto tempo. Qui c'è un... L'hai trovata? Sì. Sì, l'ho trovata. Ricky? È splendido, Dick. Anche lei ce l'ha fatta. Esattamente come noi. Dick? Sì, però ascolta, sono in un centro botanico con energia elettrica e anche recinzioni. Corrente e recinzioni. Se decidete di venire, chiedete a Bowser dove lavorava Sara. Vicino ad Iron Butte, lui lo sa. Se venite, troverete Ciro. Una montagna di provvisti. D'accordo. E lui come sta? Oh, sta bene. Bene. Mike l'ha nominato capo della sicurezza. Stai scherzando? È grandioso. Puoi dirgli che... Lascia perdere, devo andare. Ciao, Dick. No, solo una cosa. Aspetta, aspetta, aspetta. Ti ricordi quando mi hai detto di accendere una candela? Avevi ragione. Lo so. Passo e chiudo. Ciao, Ricky. St. John, sono Curi. Dove sei? Uno dei miei uomini ti ha avvistato al presidio del passo di Tilson. Sì, capitano. C'è un centro di cerche Iron Butte. Sara, il tenente Whittaker aveva ragione. Abbiamo trovato il pezzo di equipaggiamento di cui aveva bisogno. Ed era l'unico posto in cui avremmo potuto procurarcelo. Non risponde alla radio. Il colonnello chiede perché siete ancora fuori. Digli... Digli che stiamo tornando. Vorrebbe parlare con te. Mi spiace, capitano. La comunicazione salta. Stiamo uscendo. Chiudo. Ok, aspetta. Ok, più niente. Lo posso andare. E ti saluta. Ti amo anche diglielo. Eh. Sì, sì. Gli ho detto che sei viva e che stiamo bene. Ma non mi sono dilungato perché dobbiamo attraversare il passo prima che cambi il tempo. Tu che ne pensi? Non lo so. Non promette nulla di buono. Non credo si riferisse al tempo. Va a fare la pena provare, quindi... Diamoci una mossa. E in effetti possiamo anche andarci, né? Nessuno ci vieta di sparire, però... Immagino che poi ci diano la caccia, quindi... Meglio o no? Meglio di no. No, forse si rifriva il tempo, però vabbè. è libera. Ehi, ti vai di mangiare qualcosa? Sì, solo un secondo. Avevo vissiti, fratici. Vabbè, direi che è il momento giusto, eh. Devo di morire congelata. Sì. Volevi mangiare o... Sì, certo. Sì. Non ho neanche fame. Sì, neanch'io. Sì, neanch'io. Sì, neanch'io. Grazie. Grazie. Grazie.